E' la pelle rosa, ma lo prendo? Che carini che sono, e' il suricato. E' che incamminiamo, una pezzata per ci trovare. Il proroso è una pezzata che ha fatto, da anche acizzare, la pezzata che hanno un pezzato per la pane. Perciando, con un po' di cibo, con un po' il cuore. Perciando, con un po' di zucchero. Ma gli altri hanno fretta. Ok, stavo per cadere. Hai visto nonna che lo accarezza? Vuoi accarezzare? Fammi circolare! È morbido, mami? Sì, è bello. Guarda che bello che è. Beh, mica tanto, è un po' ruvidoso. Ma io non le sto toccando. Aspetta! Sei gelosa? Ma che cavolo? Aspetta, lasciami i dito! Non lo accarezzare! 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 È? Ehm... Non lo accarezzare! È? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.